L'associazione nazionale nasce appunto nel 1988 quando erano pochissime le donne in questo settore, i ruoli soprattutto era quello di produttore. Oggi siamo quasi 800, siamo cresciute e all'interno non ci sono solo produttrici ma anche agronome, enologhe, sport manager, commerciali, responsabili PR come nel mio caso e anche ristoratrici, sommelier, enotecaie, insomma il mondo del vino a 360 gradi. Vogliamo fare squadra tra di noi nella filiera per promuovere questo mondo che è fatto oltre che di storie come mi piace dire di uomini, di vigneti e di idee, quindi in questo caso di donne, di vigneti e di le, storie di territori, territori meravigliosi e nel caso della Sicilia vogliamo raccontare il nostro continente perché sappiamo che la Sicilia lo è attraverso il vino che soprattutto fatto per mano di una donna, raccontato o promosso da una donna sicuramente ha un fascino e un appeal tutto particolare. Le donne sanno essere molto determinate e quindi cerchiamo di raggiungere sempre i nostri obiettivi, vogliamo raccontare a tutti che la Sicilia è innovativa, che la Sicilia è freschezza, la Sicilia è qualità e ci riusciamo soprattutto quando facciamo squadra tra di noi. Sicuramente nel DNA hanno quella forza, quella passione, quella tenacia che ahimè gli uomini ci invidiano e sicuramente quando si prefissano un obiettivo lo puntano dritto e fanno di tutto per arrivarci. Poi devo dire la nostra capacità di essere un po' multitasking, mogli, madri, impenditirici, ci permette di mettere insieme tanti elementi. La capacità appunto di portare anche un po' di noi stesse che possa essere legato alla passione per la moda, per il design, ci permette anche di appunto gestire più cose contemporaneamente. Noi ci riusciamo. Beh, la Sicilia ha un clima meraviglioso, oltre che dei vitigni davvero interessanti. Questa combinazione tra clima, vitigni, terreno ci dà dei vini piacevoli ma allo stesso tempo complessi. E cioè dei vini che hanno un impatto molto familiare, molto friendly, direbbero gli americani, ma allo stesso tempo dei vini dei quali poi possiamo ricordarci a lungo perché sono aromatici, sono intensi. E quindi piacevolezza e complessità sono le caratteristiche che davvero contraddistinguono il vino siciliano oggi. Io sono convinta che le donne nel mondo del vino ci sono sempre state, nel mondo della terra altrettanto. Oggi invece sono più numerose, quindi hanno una visibilità maggiore e il loro essere numerose sta proprio nel fatto che l'hanno scelto come professione. Quindi una volta non c'erano le donne che si laureavano in agraria e non c'erano le donne che facevano, che sceglievano in ologia. Adesso hanno competenze e lo scegliono come professione. Quindi questo numero è diventato un valore aggiunto nel mondo del vino. Ovviamente sono donne che hanno anche diverse competenze, non soltanto questa specialistica. All'interno di un'azienda poi si vanno a contestualizzare molto spesso anche nella parte economica, nella parte del marketing. E quindi sono donne con delle specialistiche ben precise che però variano in mezzo a tanti settori dell'azienda. Grazie per la visione!